Il Presidente Paternosta è iniziata oggi la prelazione per i vecchi abbonati dell'Ellas Verona, quindi si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti 2013-2014 e come sempre a GSM è al fianco dei tifosi dell'Ellas Verona. Sì, come sempre al fianco dei tifosi dell'Ellas, abbiamo un'offerta commerciale assolutamente vantaggiosa per tutti i tifosi dell'Ellas che poi sono anche i nostri clienti. Andiamo un po' più nello specifico, vediamo alle sue spalle lo stand che troveranno tutti i tifosi tutti i giorni proprio per la campagna abbonamenti, andiamo nello specifico e dilucidiamo l'offerta GSM per la stagione 2013-2014. La pratica è semplicissima, siamo presenti tutti i giorni, tutto il giorno, vicino alla Curva Sud, vicino ai Bigonci, un tifoso, cliente GSM o non cliente GSM che deve passare in GSM viene qua con il proprio documento di entità, l'ultima bolletta e passa con noi. Gli diamo un voucher, con questo voucher andrà direttamente al Bigoncio per farsi rilasciare fino a tre abbonamenti, senza sborsare nulla se non un piccolissimo acconto, quindi è un'azione commerciale che il GSM ha fatto in questo specifico momento dove magari le famiglie possono avere delle grandi difficoltà per sottoscrivere da uno fino a tre abbonamenti, perché questa è la nostra proposta, mentre con il GSM entrano gratis allo stadio perché il pagamento sarà rateale durante tutto l'arco dell'anno. Per maggiori informazioni, se un tifoso volesse avere ulteriori delucidazioni a chi si può rivolgere? Tutti i giorni, ripeto, è a disposizione tutto il giorno il nostro stand a fianco alla Curva Sud, quindi anche durante la pausa pranzo che magari è un momento di non lavoro, viene qua, raccoglie informazioni, sente di preciso qual è la nostra offerta perché poi tra l'altro l'energia viene offerta a un prezzo assolutamente vantaggioso e sono sicuro ed è anche il mio auspicio che più clienti, più tifosi facciano e scelgano questa offerta, meglio sarà l'azione commerciale di GSM nei confronti dell'Ellas Verona.